Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di The Last of Us 2 vi spiegherò come aprire la cassaforte che trovate nello store Wellwishers una volta che avete, diciamo, giocato per oltre un'ora. Non è presente una mappa, quindi non posso mostrarvi la mappa con l'ubicazione, ma questa è una zona che visiterete per forza se andate avanti con la storia. Raggiungerete un luogo in cui ci sono delle trappole esplosive e noterete appunto questa scritta in grande, non potete sbagliarvi, quindi evitate questa trappola, entrate dentro e raggiungete il bagno per trovare la combinazione, che è questa qui. Quindi 5 5 5 0 1 3 3. Dopodiché aprite questa porta, uccidete l'infetto e potete aprire la cassaforte. Quindi la combinazione è 55 0 1 33. E la cassaforte è aperta.